Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Una misura cautelare è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nei confronti del consigliere provinciale Gianluca Alfonsi. Il provvedimento di obbligo di firma su disposizione del Tribunale di Avezzano riguarda l'inchiesta su falsi certificati medici che ha portato a maggio a 10 ordini di custodia cautelare. L'ordinanza nell'ambito dell'operazione Tutti per Uno della procura di Avezzano coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano Roberto Savelli è stata notificata alla fine dello scorso mese di luglio. L'accusa nei confronti dell'esponente politico di Forza Italia che ha sempre ribadito la propria estranetà ai fatti è quella di violazione del segreto d'ufficio ma la sua posizione non ha nulla a che fare con la vicenda dei certificati per falsi invalidi. Infatti Alfonsi, il luogotenente della Guardia di Finanza, accusato di aver rivelato a un suo compaesano durante un colloquio in piazza con l'indagato Arnaldo Aratari che vive a Gioia de Marsi, l'indagine in corso nei suoi confronti. Per gli altri indagati le accuse a vero titolo sono diverse in base al ruolo della vicenda e tra queste ci sono frode processuali, corruzione, falsità materiale ed ideologica, frode assicurativa, truffe ai danni dello Stato e favoreggiamento. L'accusa nei suoi confronti aveva chiesto la sospensione provvisoria dal servizio pubblico, quindi della carica politica e della funzione di finanziere. Ma il GIP Maria Proia ha colto soltanto la richiesta della misura dell'obbligo di firma tre volte a settimana alla Guardia di Finanza di Avezzano. La difesa di Alfonsi, rappresentata dall'avvocato Cesidio Di Salvatore, ha presentato già ricorso al Tribunale della Libertà. Un ponte ha la funzione di superare gli ostacoli naturali e l'ordinanza di interdizione al transito sul ponte del Giovenco, emanata dal settore di viabilità della provincia dell'Aquila, sta creando gravi danni economici e sociali, nonché ostacoli burocratici su cui chiediamo trasparenza. Lo stallo in cui è finita la vicenda del ponte, situato all'interno del comune di Bisegna, nell'area del Parco Nazionale d'Abruzzo, ha reso necessaria una richiesta di accesso agli atti indirizzata alla provincia dell'Aquila per conoscere ogni dettaglio sull'interdizione al transito sul ponte che tiene isolata un'intera valle. Lo affermano in una nota gli onorevoli pentastellati Carmela Grippa e Fabio Berardini. Tra l'altro schiariscono che appare assolutamente incredibile che ad oggi il ponte sul fiume Giovenco, il quale collega un'intera valle, rimanga chiuso senza una perizia tecnica e senza un cronoprogramma per il ripristino della viabilità. Per questo motivo, nell'interesse della comunità, abbiamo ritenuto opportuno predisporre una richiesta di accesso agli atti amministrativi per conoscere quali procedure siano state messe in atto dal competente settore viabilità della provincia di L'Aquila per l'affidamento degli incarichi professionali, per le indagini geologiche e geognostiche, le indagini strutturali, la progettazione delle opere urgenti di puntelamento, la progettazione per il consolidamento definitivo delle strutture danneggiate e la progettazione di nuove strutture. La caccia è imbraccata cinque mesi l'anno al posto dei tre attuali e un tavolo di concertazione permanente tra regioni e ministeri competenti con azioni concrete da mettere in campo per fronteggiare l'insostenibile carico di cinghiali nella nostra regione. L'assessore dell'agricoltura Dino Pepe lo richiede nella lettera inviata al ministro per le politiche agricole Gianmarco Centinaio e dal ministro per l'ambiente Sergio Costa dopo aver sollecitato in merito ai predecessori e alla guida dei due dicasteri autonomia gestionale delle regioni per poter valutare e implementare le strategie più opportune funzionali al proprio setto socio-economico e territoriale per le regioni di ampliare i periodi di caccia di alcune specie di selvatici, in particolare dei diungulati, in presenza di esigenze riscontrate dall'osservatorio faunistico regionale o dall'ESPRA. Un numero maggiore di giornate di caccia settimanale per diungulati e altre specie molto dannose. Il controllo, la prevenzione e risarcimento dei danni sia nelle aree a gestione programmata della caccia sia all'interno delle aree dove l'esercizio venatore è vietato, la possibilità per le regioni di avvalersi del parere tecnico-scientifico dell'osservatorio faunistico regionale per il monitoraggio delle specie e la definizione degli interventi da realizzare sul territorio al fine di garantire l'equilibrio, l'avvio dell'attività venatoria nelle aree contigue ai parchi con una modulazione della pressione venatoria, anche l'affidamento alle regioni della gestione della fauna selvatica nelle aree contigue ai parchi con appositi regolamenti. Spostamento parziale del mercato del sabato del giorno 4 agosto ad Avezzano. La decisione è stata presa per consentire alla settimana marsicana di svolgere i suoi eventi nel tratto di via antistante il Palazzo Torlogna. L'assessore comunale alle attività produttive Renata Silvagni rende noto che il riferimento alla disposizione dirigenziale del 10 luglio 2018, questo assessorato sentite le associazioni di categoria degli ambulanti che hanno espressamente richiesto di trovare una soluzione utile a consentire lo svolgimento del mercato del 4 agosto prossimo dopo un confronto con il sindaco, ritiene possibile accogliere la richiesta dei commercianti. A tal fine chiede che vengano predisposti tutti gli atti necessari a far sì che il mercato possa svolgersi attraverso lo spostamento dei suoi banchi collocati sul tratto di via Piazza Torlonia, interessato dagli eventi legati alla settimana marsicana, ovvero compreso tra via Anna Maria Torlonia e Veroma, in altra strada, e precisamente sul tratto di via Mazzini, tra Piazza della Repubblica e via Fontana. ACCIAM, azienda servizi energetici ed ambientali di Avezzano, consolida la propria leadership nella gestione dei rifiuti solidi urbani. Grazie. Ad un'attenta gestione del Consiglio di amministrazione preseduto da Lorenza Panei, l'abbiamo incontrata a seguito dell'approvazione dell'ultimo bilancio che ha fatto registrare un utile interessante. Vediamo il servizio. Siamo in compagno con il Presidente dell'AIC, Lorenza Panei, un po' resti a rilasciare dichiarazioni, però dopo una certa insistenza, diciamo che siamo riusciti a parlare un po' di questa azienda, soprattutto alla luce di alcune novità che ci sono state proprio nella giornata di ieri, ma ne parleremo dopo. Intanto, la Galassia Asham, che cosa è? Perché poi non tutti conoscono questa realtà. Allora, intanto grazie. Dice che sono resti alle interviste, però in genere io le rilascio sempre alla fine di ogni anno fiscale. Quindi, infatti, quello che mi preme sottolineare sempre è dare visibilità a questo territorio, sia di quello che ACIAM fa e di come lo fa. Dunque, ACIAM è una partecipata che si compone di un 49% di quote private ed un 51% di capitale pubblico. È un'azienda che si occupa principalmente di trattamento del rifiuto, di lavorazione del rifiuto, attraverso l'impianto che si trova nel Comune di Aielli. Quindi, impianto che ha, ricordo, due linee di trattamento, uno per il rifiuto indifferenziato e uno per il trattamento del rifiuto organico. Quella linea lì è quella che poi, attraverso la lavorazione dell'organico, tira fuori il compost, che è quel fertilizzante, il frutto di qualità perché è riconosciuto, attraverso una certificazione abbastanza importante, è quel fertilizzante che viene utilizzato molto spesso dagli agricoltori del Fucino. Una donna alla guida di un'azienda è importante. Quando si parla di un'azienda, insomma, invece, sotto la tua guida, l'ACIAM ha conseguito risultati importanti. Ricordiamo l'utile di bilancio. Sì, diciamo che l'ACIAM ha iniziato a lavorare non perché non si facesse in passato, però sicuramente i numeri dimostrano che questo Consiglio di Amministrazione, che è in carica dal 2013, che è stato riconfermato poi nel 2016, è un Consiglio di Amministrazione che è stato molto sensibile sia verso una politica industriale che ha dato poi i risultati che sono quelli di quest'anno, con un utile di circa 400 mila euro al netto delle tasse. Utile che quest'anno l'Assemblea dei Comuni Soci ha deciso di reinvestire perché noi abbiamo il progetto di riconversione di questo impianto. Infatti, l'obiettivo è quello di lavorare il rifiuto organico principalmente. Questo perché? Perché questo territorio, e per territorio io parlo della provincia dell'Aquila, è un territorio che ha degli impianti fissi, perché noi non ci dimentichiamo che oltre ad ACIAM abbiamo anche l'impianto di Coggesa nel comune di Sulmona, che però, a differenza del nostro, può trattare solo il rifiuto indifferenziato. Quindi, quello che questo Consiglio di Amministrazione ha cercato di fare è di lavorare in squadra, cosa che è molto difficile in questo territorio, per cercare di utilizzare al meglio gli impianti presenti nella provincia dell'Aquila. Noi siamo in un regime di autosufficienza, cioè a noi i nostri impianti sono sufficienti. Se solo però riuscissimo a specializzarci ognuno per le peculiarità che ha in azienda. Quindi io continuerò a sensibilizzare i nostri colleghi, sia colleghi gestori che i nostri amministratori di questi territori, a cercare di lavorare più insieme in modo tale che si possa avere partecipate, gestite, in modo virtuoso come questa. Un ruolo importante l'avete avuto anche per lo smaltimento delle macerie, riconosciuto un po' da tutti. Sì, quello è un progetto importantissimo che ci è stato affidato dalla protezione civile per tre comuni, Montereale, Capitignano e Campotosto, comuni che purtroppo stavano in condizioni disastrate. Comuni, oltretutto, che erano molto importanti per quel territorio, anche per una questione turistica, non solo per i residenti, ma quelli sono comuni che hanno una realtà storica importante. È un progetto impegnativo, molto impegnativo, però siamo contenti perché con la stessa squadra noi abbiamo le stesse risorse che stanno lavorando in maniera... si stanno impegnando molto perché tu capisci bene che se tu non aumenti l'organico significa che quell'organico ti sta dando una resa importante. Quindi io colgo l'occasione anche per fare complimenti alla squadra dei dirigenti che ha questa azienda, la cui competenza viene riconosciuta non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale. Ultima nota, è stata istituita l'autorità regionale di gestione dei rifiuti. Che cos'è? Ne farà parte il sindaco di Avezzano. L'importanza proprio della presenza del sindaco per quanto riguarda la vostra attività. Sì, ecco, io infatti mi sono complimentata anche con tutto il lavoro che è stato fatto proprio per la composizione di questa autorità che poi sarà quella che gestirà tutto il ciclo integrato dei rifiuti e quando dico ciclo integrato significa strategia di impiantistica quindi nuovi impianti, definizione delle tariffe, quindi questa autorità avrà un ruolo importantissimo e è un'organizzazione, un consiglio di amministrazione che si compone di sette membri regionali quindi per noi avere il sindaco di Avezzano come rappresentante di questo territorio e quando parlo del territorio io parlo del territorio marsica è stato un gran risultato. Dietro questo risultato io vi dico che c'è stato un ottimo lavoro che hanno fatto le organizzazioni politiche tutte senza esclusione di nessuna e io dico che è questo l'esempio che noi dovremmo seguire. Cioè noi per la gestione di attività come queste nei nostri territori abbiamo bisogno di una sintonia massima perché i risultati si ottengono solo se noi riusciamo ad oltrepassare quelle barriere che storicamente hanno diviso questo territorio e lo hanno oltretutto indebolito verso quello che poi è il territorio della costa di qualsiasi regione cioè l'entroterra ha sempre più difficoltà. Quindi io l'invito e colgo l'opportunità vostra di questa intervista e l'invito che faccio ai nostri amministratori è cerchiamo di lavorare insieme ognuno poi con la propria appartenenza politica ma perfino obiettivi comuni che rilancino questi territori. Quindi mi riferisco ad Avezzano però mi riferisco a tutta la marsica in genere ma anche alla città dell'Aquila. Quindi la nostra provincia ha bisogno di persone illuminate che pensino un po' di più al bene comune. Ringrazio il Presidente dell'Ascia e Lorenza Panei naturalmente faccio anche auguri per il lavoro e vi auguro di non aspettare un anno per il prossimo incontro. Grazie, grazie. No, non aspetterete un anno. Grazie mille. Sarà la suggestiva chiesa cinquecentesca di San Sebastiano che ha suonato nella rigodiosa Selva dei Frati, la cornice dell'attesissimo concerto nell'assemble labirinto armonico fondato dal violinista Pierluigi Meccattini in programma per giovedì 2 agosto alle 21 a Lucco de Marsi. Nel giorno della festa del perdono nell'area della selva del convento completamente ripristinata nei giorni scorsi o prontamente illuminate con spazi approntati per l'occasione risuoneranno le note delle mortali opere di Bach Vivaldi nell'interpretazione dell'Essendo nella formazione di Stefania Di Giuseppe, clavicembalo Pierluigi Meccattini, violino barocco Giovanni Rotta, violino barocco Maria Rosaria Lussito, viola barocca Galileo Di Ilio, violoncello barocco Gregory Coniglio, violone L'Essendo ha attivo presigiosi concerti in Italia all'estero ed è impegnato in progetti culturali e artistici di ampio respiro con il sostegno di numerosi identi pubblici e privati tra cui il Ministro Beni e Attività Culturali e la Regione Abruzzo. I musicisti eseguiranno il concerto con strumenti d'epoca del XVII e XVIII secolo e coppie fedelmente riprodotte da mestri liutai italiani. Giovedì 2 agosto la Santa Messa sarà celebrata nella Chiesa dei Frati alle 6 e alle 18. Nell'area dal pomeriggio saranno presenti dei punti ristoro. L'ingresso al concerto inserito nel cartellone degli eventi estivi vacanze lucchesi è gratuito. Il Tar ha rispinto il ricorso proposto da Italiana Beveridge dal patron della Santa Croce Camilo Colella contro la Regione contro la Nord per la vicenda dell'affidamento della concessione di acque minerali Sant'Antonio Sponga nel comune di Canistro. Sembra non avere mai fine quindi l'iter legale che riguarda la gestione delle acque minerali di Canistro conosciuta in tutta Italia. Un altro nuovo pezzo, un pason finito, è stato inserito dal Tar con una nuova sentenza che con ogni probabilità non sarà l'ultima sulla questione. Al centro della vicenda una determina dirigenziale alcuni verbali della commissione giudicatrice e degli altri atti di gara con particolare riferimento a quelli relativi alla valutazione della società italiana Beveridge che ha conseguito un punteggio complessivo finale pari a 58,25 punti e un punteggio parziale per il piano industriale pari a 54 punti. La prima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale è respinto a ricorso e condannato da ricorrente al pagamento delle spese di giudizio pari a 2.000 euro oltre accessori in favore di ciascuna delle parti costituite. Ora proseguirà l'iter per l'affidamento definitivo se non ci saranno altri tipi di ricorso. Tanto il comune ha predisposto già l'accordo di programma tra i comuni di Canistro, Civitella, Roveto e la Regione per l'acquisizione dei terreni e per tutto il resto che riguarda la nuova gestione che sarà approvato nelle prossime settimane. Il secondo appuntamento della resegna music-architettura promossa dalla società aquilana dei concerti barattelli è per giovedì 2 agosto presso un emiciclo alla Villa Comunale con inizio alle ore 21.30. L'evento musicale patrocinato e realizzato in collaborazione con il Consiglio regionale dell'Abruzzo porta all'Aquila il coinvolgimento e l'arte di Enzo Avitabile virtuoso sassofonista, compositore e polistrumentista partenopeo e come lui stesso si definisce musicista del mondo in viaggio perenne tra l'American era e i villaggi africani e i sentieri del Mediterraneo. Il suo stile unisce la tradizione musicale più nota del Sud Italia con l'aiuto della Black Tarantella Band è quella più antica, di origine contadina con il suono antico delle botti e dei bottari di portico. Il Mediterraneo risuona da sempre le prime tracce dei rituali contadini del Sud Italia risalgono al XIII secolo quindi botti, falci e tini usati come percussioni scandiscono arcaici ritmi processionali nel tentativo di scacciare gli spiriti maligni dagli angoli bui delle cantine per propiziare il raccolto. Suoi del Sud, suoi del monto dunque una miscela che è in suo avvitabile ha reso spettacolo vivo e attuale. Un evento intenso, nello stesso tempo pieno di ritmo, di emozioni, di energia e coinvolgimento. L'ingresso è libero. Locali per le vaccinazioni all'ospedale San Savaltoore molto più ampi e confortevoli. Venerdì tra agosto alle ore 10 la direzione ASDRA illustrerà modifiche apportate e vantaggi per utenze e operatori sanitari. Saranno presenti il manager della ASDRA, Rinaldo Tordera, il sindaco Pierluigi Biondi, il viceguido Liris e il direttore del servizio vaccinazioni Enrico Giansante. Quasi 2000 persone hanno assistito al concerto conclusivo dei Cantieri dell'Immaginario con il mitico cantante e bassista dei Pou Red Kansian accompagnato da un'orchestra sinfonica abruzzese guidata dal maestro Stefano Fonsi. Prima dell'esibizione, il presidente Centi e il direttore artistico dell'istituzione sinfonica abruzzese nonché il padrone di casa, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio hanno salutato il pubblico ringraziando tutti i protagonisti di questa edizione dei Cantieri dell'Immaginario. Rai Kansian ha ripercorso i più grandi successi italiani e internazionali. In scaletta 24 brani tutti arrangiati dal musicista e direttore d'orchestra abruzzese Stefano Fonsi dalle canzoni più note dei Pou. L'IMS informa di utenti che causa degli inespressi dei tentativi di frode a danno delle fasce più deboli. L'istituto è costretto a ribadire la propria estranetà a qualsiasi arbitrale tentativo di intrusione nella sfera privata dell'utenza. In particolare, diverse segnalazioni giunte a questi giorni riguardano chiamate di persone che si spacciano per corrieri espressi al fine di acquisire dati bancari, indirezzi e qualunque altra informazione personale per il ricapito, pliche o rimborsi spediti dall'IMS. L'IMS ricorda che non manda nessuno e tanto meno propri operatori al domicilio delle persone. Ne ribadire di presentare la massima attenzione a visite o chiamate presso il proprio domicilio invita gli utenti a segnalare ogni tentativo fraudolento alle autorità di pubblica sicurezza competenti. Sul sito IMS si può visualizzare uno spot che invita tutti a difendersi dalle truffe e dai falsi ispettori IMS. L'infinita ricchezza, bellezza e fragilità del pianeta Terra e delle creature che lo popolano proiettate su un grande schermo itinerante per le piazze d'Abruzzo. Persigiosi premi ai migliori autori di documentari ambientali e personalità che si sono distinte per il loro impegno volto alla conoscenza e alla tutela della natura. Questo in sintesi da 18 anni il Festival Internazionale del Cinema Naturalistico ed Ambientale che anche quest'anno per la seconda volta si avvale della prestigiosa collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. L'edizione 2018 è stata presentata oggi in conferenza stampa a Pescara presenti fra gli altri Marco Alessandrini, sindaco di Pescara il colonnello Pier Vittorio Romano capo di Stato Maggiore Regione Carabinieri Abruzzo e Molise colonnello Luciano San Marone comandante al reparto Carabinieri Forestali di Casal di Sangro da Crescenzo Presutti assessore all'ambiente del comune di Avezzano da Luciano Di Tezio delegato WWF Abruzzo e Molise le piazze interessate all'evento dove saranno proiettati una ventina di documentari sono Penne il 4 e 5 agosto Silvi il 6 e 7 agosto Avezzano 8 e 9 agosto e gran finale a Pescara al Teatro del Mare il 10 e l'11 agosto con la cerimonia di premiazione e con il concerto della prestigiosa fanfara dei Carabinieri anche in questa edizione sarà dato spazio ai dibattiti pubblici l'8 agosto ad Avezzano le ore 21 orsi e lupi la natura di un passo da noi a cura del WWF a cui far seguito la presentazione del libro legami di ferro di Beatrice Ruscio ed infine il 9 agosto a partire dalle ore 21 sempre ad Avezzano l'incontro dibattito sulla terza rivoluzione industriale a cura del Cetra Educational incentrato sulle visioni di Jeremy Rifkin economista e sociologo statunitense teorico della terza rivoluzione industriale ovvero di un nuovo modello economico collaborativo di società in cui ognuno ha la responsabilità di creare la propria energia rinnovabile e distribuirla attraverso un sistema simile a quello già esistente per lo scambio di informazioni su internet Gli artigiani e le piccole e medie imprese dell'Abruzzo hanno una nuova guida si è riunita ieri pomeriggio a Pescara la giunta esecutiva di Confartigianato Abruzzo che ha ratificato la nomina di Giancarlo Di Blasio presidente regionale dell'associazione 41 anni nato a Pescara ma residente a Cepagatti Di Blasio è presidente di Confartigianato Pescara dal 2016 componente del Consiglio Camerale Chieti Pescara e associato dal 2007 è legale rappresentante della TES Sistemi azienda operante nel campo dell'impiantistica la gestione che si apre con la nuova presidenza punta ad inaugurare una fase di cambiamento commenta Di Blasio che nel corso della riunione ha manifestato il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente uscente Luca Di Tecco e ha messo a rilievo la necessità di una maggiore attenzione da parte della regione Abruzzo rispetto alle questioni nevralgiche che interessano i settori economici rappresentati dall'associazione questi anni osserve il neopresidente i nostri associati si sono sentiti poco considerati e talvolta abbandonati Di Blasio si era affiancato nel ruolo di segretario regionale da Daniele Di Marzio classe 76 segretario della territoriale di Teramo dal 2012 e amministratore unico dell'ente di formazione conforma Di Marzio prende il posto di Daniele Giangiulli direttore generale di Confartigionato Chieti L'Aquila questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci Grazie Grazie